Sabato 2 febbraio alle ore 21 sul palco del Teatro Sociale Aldo Giuffré arriva Forza, il meglio e passato, spettacolo di Davide Cavuti che vede protagonisti l'attore Giorgio Pasotti e la ballerina Claudia Marinangeli. Lo spettacolo si ispira alla celebre frase di Ennio Fraiano e con la stessa ironia ripercorre le storie di alcuni personaggi molto noti del teatro e della letteratura italiana ed internazionale e le varie epoche in cui hanno preso forma, cogliendo gli aspetti della vita dell'uomo quali l'essere, l'apparire, l'amore, la politica e il futuro.